Il mio amico che ha preso il sasso in testa e basta. L'hai preso e che cosa avete fatto? Ha portato sulla panchina, è svenuto e l'ho portato su. Di giorno si dipana la notte buia di Pessano con Bornago in provincia di Milano. Le immagini notturne mostrano ancora le armi utilizzate nella rissa, scoppiata poco prima di mezzanotte tra due gruppi di giovani in via Montegrappa. Un ragazzo di 22 anni, Dimitri Simone Stucchi, è morto per le ferite riportate. Sarebbe stato accoltellato al torace. Un sedicenne è stato trasportato all'ospedale di Melzo con ferite alla testa, colpito da dei bastoni di legno trovati sul luogo dell'aggressione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al lavoro il nucleo investigativo dei carabinieri. Sul posto intervenuti i militari della compagnia di Pioltello e il personale sanitario del 118. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, le due fazioni erano in contrasto da tempo e negli ultimi giorni si erano promessi battaglia sui social, sino a darsi appuntamento per risolvere la questione in strada, coperti da cappucci e armati. Le indagini si concentrano ora sulle telecamere installate nella zona.